ciao e benvenuti in questo video per il progetto educare alla lettura prosegue la nostra narrazione della storia di cappuccetto rosso siamo ora giunti all'interno del software didattico scratch ad avere caricato i nostri personaggi abbiamo infatti uno sprite per cappuccetto rosso e uno sprite che io ho caricato analogamente a come vi ho mostrato per caricare lo sprite di cappuccetto rosso per la mamma possiamo osservare però come il dimensionamento e il posizionamento dei personaggi sia assolutamente inadeguato volevo quindi ora a mostrarvi come poter andare a gestire un attimo gli aspetti grafici preoccupiamoci dapprima dello sfondo andando a cliccare appunto su sfondo selezioniamo quindi la programmazione proprio dello sfondo possiamo ancora una volta andare a cliccare nuovamente sfondi in alto a sinistra per selezionare la tabella di modifica degli sfondi vedete che compare quest'area centrale che è una classica area di disegno non possiamo andare a modificare i nostri disegni qui sulla sinistra troviamo strumenti canonici per il disegno digitale possiamo per esempio prendere lo strumento pennello e andare ad aggiungere qualche cosa al nostro disegno abbiamo altri strumenti lo strumento ricolora riempi lo strumento seleziona la gomma possiamo aggiungere dei testi e così via possiamo anche andare a lavorare come in questo caso lavorando con un'immagine di tipo bitmap si dice quindi a pixel oppure andarla a convertire in formato vettoriale in questo modo accediamo ad alcuni strumenti un pochettino più avanzati inoltre per immagini confezionate all'interno di scratch quelle già originali potendo partire dalla modalità vettoriale abbiamo delle possibilità di elaborazione maggiore perché ogni singolo componente dell'immagine viene visto come un oggetto differente questa è un'immagine caricata dall'esterno quindi è un unico pezzo ma se fosse stata caricata dalla libreria di scratch i personaggi avrebbero avuto pezzi separati che so il vestito separato dal corpo per esempio a questo punto si poteva andare a muoverli e gestirli separatamente io adesso voglio andare a ridimensionare e spostare un po questa immagine o diversi modi per farlo ma in questo caso semplicemente lo vado a fare a mano quindi la ridimensione e la allargo finché non vado a coprire tutto lo schermo e quindi poi me la vado a posizionare ridimensionare come mi pare piace come trovo più opportuno per la mia narrazione per esempio a me piacerebbe andarla anche a specchiare andarla a riflettere me posso fare anche questo con lo strumento specchia rifletti orizzontale ecco qui che l'immagine specchiata me la vado a posizionare in un modo che convince che mi convince vedete però ora che i personaggini gli sprite sono palesemente sbagliati come misura potremmo andarli a modificare anche qui selezionando il singolo sprite andando su costumi dove già siamo e a questo punto potremo andarli a selezionare e a ridimensionare proprio a mano nessuno ci vieta di farlo ma sto per mostrarvi un modo più interessante invece perché questo qui potrebbe andare a inficiare la risoluzione dell'immagine ciò che invece possiamo fare anche sui personaggi da questa schermata e andare proprio a modificarne l'aspetto estetico supponiamo per esempio di voler cambiare il colore del vestito della mamma di cappuccetto rosso che so semplicemente con lo strumento colora il strumento ricolora posso andarmi a scegliere un nuovo colore qui magari mi scelgo anche un gradiente di colore e ecco qui che sono andato a ricolorare il vestito questo ovviamente ci permette di andare a lavorare sugli aspetti creativi anche senza disegnare da zero un personaggio posso andarlo a personalizzare preoccupiamoci per ora della questione dimensione questa dimensione possiamo andarla vi ho detto a rimpicciolire da lì ma in modo più efficace più elegante potrebbe essere invece andare in questa sezione qui sulla destra qui troviamo le impostazioni generali di uno sprite e trovate l'orientamento la posizione sullo schermo trovate anche il nome andiamolo magari a cambiare anche così per osservare che si può fare andiamo quindi poi a modificare la dimensione finché non troviamo una dimensione adeguata per esempio un 35 40 nel mio caso potrebbe essere interessante altrettanto devo andare a rimpicciolire anche il capuccetto rosso eccoci qui un altro aspetto fondamentale nel iniziare un programma in scratch e andare a determinare la posizione iniziale dei personaggi da questa schermata io lo posso proprio fare inizialmente trascinandoli proprio spostandoli fisicamente con il mouse andiamo ora a preoccuparci della programmazione per andare a programmare qualche cosa dobbiamo andare a scegliere innanzitutto lo sprite che noi vogliamo programmare in questo caso inizieremo dalla mamma perché sarà il primo personaggio a fare qualche cosa se vi ricordate lo storyboard abbiamo la scena in cui la mamma fa comparire il fumetto dice la sua battuta e poi il cappuccetto rosso risponde a questo punto andiamo a selezionare la mamma e per andarla a programmare dobbiamo andare a selezionare il tasto la tabella codice ci troviamo nella schermata che avete già visto qual è il comando per fare in modo che un personaggio faccia comparire un fumetto questo comando lo troviamo nella categoria di istruzioni aspetto e troviamo all'interno di questa categoria il comando dire ciao per due secondi tutte le caselle bianche in cui è scritto qualche cosa sono caselle modificabili basta andare a cliccarle e possiamo andare a modificare il campo in questo caso possiamo selezionare ciao e andarlo a sostituire con il testo cosa vogliamo che dica per esempio la mamma di cappuccetto rosso per esempio potrebbe dire una frase del tipo cappuccetto rosso e la nonna è malata o è anziana la nonna è anziana portale questo cestino con la merenda e a questo modo quando andremo a cliccare adesso ve lo faccio vedere in modo così veloce il comando vedrete ecco qui il fumetto che comparirà comparirà per quanto tempo il tempo indicato proprio in questa seconda casella due secondi due secondi sono un po pochi per leggere tutta questa roba facciamolo comparire per cinque vediamo un po capuccetto rosso la nonna è anziana portale questo cestino con la merenda poi potremo far comparire un secondo fumetto come faremo secondo fumetto dovrà comparire dopo questo quindi prenderemo un altro comando fumetto e lo andremo ad agganciare in coda al precedente e così la mamma potrà dire la seconda battuta per esempio però mi raccomando non avventurarti nel bosco è pericoloso io ovviamente sto parafrasando un po la storia di capuccetto rosso questo è chiaro e anche qui posso andare a indicare un tempo necessario andiamo a vedere il risultato finale capuccetto rosso la nonna è anziana portale questo cestino con la merenda però mi raccomando non avventurarti nel bosco è pericoloso ed eccoci qui abbiamo già iniziato a creare la nostra narrazione la nostra narrazione però io ve l'ho fatta creare con un piccolo chiamiamolo bacco di programmazione nel senso che per mostrarvelo così in diretta al volo ho avviato il programma cliccando sui blocchetti tuttavia questo è un modo sbagliato di lavorare io ve l'ho fatto vedere solo per far vedere il risultato in diretta ma per un buon programma è sempre necessario che esista un evento di avvio qualche cosa che mi scatena quella che cosa che mi determina il partire del programma e questo è soprattutto vero quando poi andiamo a creare dei programmi più articolati perché in questo caso noi abbiamo un solo script quindi un solo programma che mi programma solamente la mamma se però avessimo più script e li avremo che devono gestire più cose contemporaneamente dovranno partire tutti assieme e noi non potremo mai cliccarli tutti assieme perché abbiamo un puntatore del mouse solo quindi dovrà esserci un evento come li fa partire tutti questi eventi li troviamo all'interno della categoria di istruzioni situazioni e sono tutti quelli che hanno questa forma con la pancia tipo quando si clicca su bandiera verde quando si preme il tasto spazio notate che hanno il tassello al di sotto ma non hanno il tassello al di sopra quindi possiamo agganciarvi qualcosa sotto ma non sopra quindi necessariamente devono essere blocchi iniziali un po il coperchio del nostro programma tutti questi sono blocchi iniziali validi il grande classico di scratch che è pratico e ha alcune peculiarità interessanti per alcuni aspetti di programmazione un pochettino più avanzata è il comando quando si clicca su bandiera verde che noi andiamo ad agganciare in testa al nostro programma e quale sarà l'evento scatenante nostro programma guardate lassù in alto a destra troviamo proprio un altro simbolo un'altra bandierina se noi andiamo a cliccare a questo punto ecco che partirà il nostro programma leggiamolo è proprio ciò che gli abbiamo detto quindi quando cliccherò sulla bandierina verde dovrà succedere questa roba qua vi faccio notare un'altra cosa quando io vado a cliccare la bandierina verde i blocchi si scontornano di un alone giallo perché il software mi sta mi sta segnalando che il programma è in esecuzione questo è il modo di base per andare a gestire un programma per esempio come possiamo fare andare a rispondere cappuccetto rosso allo stesso modo andiamo a programmare cappuccetto rosso anche qua l'avviamo con l'inizio con il lancio con la bandierina e cappuccetto rosso cosa dovrà dire dovrà anche lei far comparire un fumetto in cui risponderà la mamma e potrà dire tipo va bene lo porto alla nonna e non passo nel bosco eccoci qua però guardate un po questa cosa sembra abbastanza ovvia ma bisogna starci attenti io adesso vado a lanciare il programma ve lo faccio vedere anche a tutto schermo così che si da un po meglio per mettere a tutto schermo clicco questo tasto in alto a destra e vado a lanciare il programma eccolo lì cappuccetto rosso ha parlato contemporaneamente alla mamma questa cosa qui in realtà se noi ci riflettevamo prima era ovvia perché guardate noi abbiamo programmato entrambi i personaggi per dire qualche cosa quando si clicca sulla bandierina verde entrambi partono con lo stesso fattore scatenante ci sono diversi modi per evitare questo problema vi vorrei far vedere il più semplice a lungo andare su narrazioni complesse diventa macchinoso è anche complicato da gestire ma su narrazioni semplici e soprattutto per iniziare è il più immediato non resta che andare a temporizzare le nostre azioni notate un po la mamma impiega nove secondi a dire le sue due battute perché per dire la prima battuta impiegherà cinque secondi e poi la seconda la dirà dopo quattro secondi quindi cappuccetto rosso dovrà parlare dovrà far comparire il suo fumetto dopo nove secondi dall'avvio del programma non ci resta che andare a programmare cappuccetto rosso e fare in modo che prima di far comparire il suo fumetto faccia aspettare appunto nove secondi come facciamo a far aspettare da un comando di controllo noi troviamo proprio comando attendi possiamo andare a scrivere nove in questo modo cosa succederà entrambi gli script di entrambi i personaggi partiranno nello stesso istante quando clicco la bandiera ma la mamma farà un'azione visibile subito mentre cappuccetto rosso prima di far comparire il fumetto starà in attesa per nove secondi vi segnalo anche un'altra cosa l'avete già vista l'ho fatto senza commentarlo ma notate che ogni volta che io clicco uno dei due personaggi vengo riportato a uno script diverso questo perché ogni personaggio ha la sua programmazione ed è indipendente dagli altri andiamo ora a vedere il risultato che abbiamo ottenuto eccolo qui capuccetto rosso la nonna anziana portale questo cestino con la merenda però mi raccomando non avventurarti nel bosco è pericoloso va bene lo porta la nonna e non passo nel bosco eccoci qui la prima scena è praticamente costruita mi raccomando provate anche voi a narrare la vostra storia